Ben ritrovati ragazzi, benvenuti a tutti voi a Ve lo dico qui, come vi consiglio velocemente vi dico che sotto nella descrizione di ogni video trovate tutti quelli che sono i miei riferimenti. Oggi voglio rubarvi qualche minutino solamente per andare ad approfondire in maniera molto veloce, ma che deve farci riflettere perché quello che sta accadendo nello Sri Lanka potrebbe fare da scuola una situazione davvero pesante, pesantissima e voglio focalizzare la mia attenzione sulla fuga dei lavoratori appunto dallo Sri Lanka, ma innanzitutto chiediamoci perché nello Sri Lanka così lontano da noi c'è una fuga così sostanziale e importante di lavoratori, una fuga che si è divisa in due tipi di lavoratori, una delle quali ora vi racconterò ha preso alla sprobbista il governo stesso. Bene, è importante sapere che lo Sri Lanka sta vivendo in assoluto la sua peggior crisi economica della storia. Nello Sri Lanka si vive di code per andare a prendere una bombola del gas per casa, per fare il carburante, per fare la spesa nei posti più economici, c'è una situazione economica che sta vivendo davvero ragazzi una vera e propria catastrofe. La situazione è pesante, talmente pesante che pensate un po', è lo stesso governo dello Sri Lanka che ha invitato i propri abitanti ove possibile a lasciare il paese per andare a trovare fortune altrove. E così si sono create fughe grandi file, oltre che davanti ai negozi per comprare a cifre economiche da mangiare o altri tipi di attività anche negli edifici, nelle strutture adibite a cosa? Ad avere il pass per abbandonare il paese. È entrata in atto una vera e propria fuga dalla povertà, da un'inflazione che ha superato abbondantemente il 50%, da stipendi che non riescono a tenere testa, ha le tasse sempre maggiori da pagare e quindi la gente sta letteralmente scappando dallo Sri Lanka. Attenzione, perché questa fuga è una fuga che ha cominciato, il suo apice lo ha toccato già nel 2022, nell'ultima battuta del 2022 e sta proseguendo in tutto questo 2023, nonostante gli aiuti internazionali che non riescono a mettere il freno neanche al peggiorare di questa situazione sempre più drammatica. E così cosa è venuto ad accadere? Che in un primo momento dalle fabbriche, dalle attività importanti di riferimento, da quelle che portano avanti l'economia dello Sri Lanka, se ne sono andati via in primis la prima categoria di lavoratori, quella di cui vi parlavo all'inizio di questo video. 20, 23, 25 anni, gli operai, la parte bassa delle fabbriche, quelli non formati, quelli non specializzati. Ma se c'è una cosa verso la quale il governo dello Sri Lanka non aveva fatto i conti e non aveva minimamente preso in considerazione, che cosa? Che dopo questa prima fuga di chi non è specializzato hanno cominciato a scappare anche quelli specializzati, quelli che devono fare formazione ai nuovi lavoratori, i manager e così tante delle fabbriche cardine dell'economia dello Sri Lanka si sono ritrovate improvvisamente con le ginocchia a terra. E così, come accade in tutte le parti purtroppo, chi è che ne ha approfittato di questa situazione? Le nazioni, altre nazioni. Ve la faccio breve e vado a concludere questo contenuto per farvi capire come purtroppo questo mondo è una tanna di lupi, una caccia continua alla preda più debole da divorare. Perché? Perché nello Sri Lanka si è venuto a creare un'esigenza importante di avere nuova forza lavoro fresca da formare nell'immediato e così. Si sono inventati dei social network di proprietà straniere, non locali, che hanno preso, si sono presi il compito, si sono caricate il compito, dietro pagamento ovviamente, di arruolare tramite social network nuovi lavoratori da mandare nello Sri Lanka e formarli e dargli quindi il supporto a queste aziende. Bella l'iniziativa, bello l'aiuto, anche se queste agenzie non mi si risulta che stiano dando dei grandissimi aiuti e grandi riscontri, però resta il fatto che giustamente mai niente si fa per niente e la domanda che mi pongo, e qui vado a concludere, ma è valsa la pena questa cosa o va a peggiorare ancora di più una situazione economica che davvero ragazzi si sta facendo drammatica nello Sri Lanka?